E adesso vi parliamo di questa bella intervista alla showgirl Michelle Unziker, che a breve arriverà un altro figlio ma a quanto pare la Marika Tellegrinelli la battuta sul tempo a marzo darà un altro figlio a Eros Ramazzotti. Per Michelle Unziker la vita è piena di sole la neo signora Trussardi passeggia al parco con la secondo genita avuta appunto dall'imprenditore Tommaso Trussardi, ma già si intravede pancino, che cresce sotto il vestito, il prossimo marzo nascerà la sua terza figlia, non sappiamo come si chiamerà ma sappiamo come non si chiamerà, eliminati infatti Luna e Stella, che avrebbero creato qualche imbarazzo comprensibile. Michelle già pensa alla quarta gravidanza e vorrebbe stavolta un maschietto, è ovvio, che mi piacerebbe ha detto recentemente e con questo ti dico che non mi fermo qui, ma se la quarta sarà ancora femmina, giuro che mi fermerò, eppure c'è chi è arrivata prima di lei all'obiettivo del figlio maschio, si tratta di Marika Pellegrinelli moglie dell'ex Eros Ramazzotti padre di Aurora, la modella infatti ha finalmente ammesso di essere in attesa del secondo figlio dal cantante, dopo Raffaella Maria, sarà un maschietto, che nascerà a marzo, praticamente in contemporanea con la figlioletta di Michelle Unziker, insomma nella gara maschietto vince Marika, ma di sicuro Michel sarà comunque felice di poter estringere la sua terza figlioletta. Intervista su Michelle Unziker e Marika Pellegrinelli tratta da TAP. Grazie per la visione!